Siamo con il murales dedicato ai larialti e di Ranciovatin, murales che il partito da un'idea un po' folle come spesso capita, quella di ricordare con un segno evidente e che permanga nel tempo il sacrificio di questi due giornalisti, una era giornalista e l'altra era cineoperatore che nella ricerca della verità hanno sacrificato la vita anche consapevolmente, c'è addirittura il rischio che l'inchiesta venga completamente insabbiata, che non ci sia più la possibilità di avere un processo nonostante siano emerse tante novità e noi quindi ci uniamo alla campagna che mi ha portato avanti dall'Osservatorio Larianchi e da Mariangela Gritta-Greimer, noi non archiviamo, quindi dedicheremo il nostro murales a questa campagna e ci colleghiamo idealmente con loro, che ci hanno scritto una lettera bellissima. eccolo vai Paolo, vai Paolo, vai Paolo, vai Paolo! Molte volte ci prendiamo dispiacere perché un'azienda piena non funziona bene, all'inizio, perché un po' che cosa non funziona, ma probabilmente dovremmo più pensare che se cresciamo soprattutto dal punto di vista interale, tante cose riusciamo a superarle e riusciamo a capire come una collettività può veramente crescere. Mi è piaciuta attenzialmente un'idea che non viene perderamare. Cosa fa, in realtà si è realizzato. Anche le persone hanno davvero esplosate.